Due camion pieni di generi alimentari donati dalla fondazione di Unicop Firenze, il cuore si scioglie Onlus alla Caritas di Ocisana Fiorentina. Zucchero, pasta, olio, caffè per un valore complessivo di 100.000 euro sono la risposta concreta data da Unicop all'appello lanciato da Caritas per un gesto di solidarietà in un periodo dell'anno, quello estivo, in cui si tendono a dimenticare le situazioni di difficoltà. Noi l'abbiamo fatto, molti altri lo possono fare e credo che il nostro scopo sia proprio quello, noi lo facciamo come Coop, lo facciamo anche attraverso la nostra fondazione Il Cuore si scioglie, che è motore di solidarietà, quindi il motore vuole attivare altro. E se è sempre crescente il numero dei profughi bisognosi di assistenza a causa degli intensi flussi migratori delle ultime settimane, è preoccupante anche l'aumento di cittadini italiani in condizioni di indigenza, 16 milioni, secondo dati Istat, sul territorio nazionale. Noi abbiamo ormai una presenza standard alle nostre mense di oltre il 30% di cittadini italiani che vengono ogni giorno a pranzo da noi, però la cosa più interessante, importante e anche preoccupante è l'aumento di tantissimi italiani, che sono la percentuale più elevata, che chiedono pacchi alimentari. Gli alimenti trasportati dai camion andranno a rifornire nei prossimi giorni le mense Caritas sul territorio fiorentino.